Picador disco bar Gallipoli litoranea sud a punta della suina inaugurazione sabato diciannove giugno quest'anno il sabato ha un solo nome furore furore Lady Pupa DJ Dodo DJ Alvin DJ Chantal favolosa cubista con Alfio Boy Lady Erotica in Giovannona Coscia Lunga partecipazioni e collaborazioni da tutta Italia e dai migliori clubs internazionali ogni sabato piacevoli fuori programma Popcorn moment ed happy hour drink a sorpresa simpatici gadget infoline 333 2026531 furore 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 info 339 45 42 886 salentogayclub.it fano Grazie a tutti.